Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo video in Remote Duel Siamo sempre con Tommy anche oggi Stavolta lui ha un altro mazzo, Ateni, così spoiler E vediamo Bia come si comporta in questa circostanza Abbiamo già provato, ha girato bene Vediamo se in video la mano sarà migliore almeno di quella di ieri Allora, come alzare? A metà, sempre Vai A metà Sì Vediamo Tirodato Sei Vai Chi parte? Io, per forza Allora, 1, 2, 3, 4, 5 Allora, allora, allora Turo Sì Effetto Ok Già mi aspettavo hash, gamma Diciamo 2 su 2 no, eh Allora, evoco Graph Ok Ok Poi Facciamo, facciamo Fammi pensare Allora, allora, allora Allora, allora Dante, l'amore di tutti gli italiani Dante Non pensava di arrivare fino a questo punto No, sei invece su chi staccare No, stacco Graph E direi che, beh Magino 3, 1, 2, 3 Ok Diciamo, poteva andare peggio Poi Effetto Di graph Evoco Cheer Foolish Foolish Libic Evoco Scarm Yes Poi Faccio Xis Dante Effetto Dante Stacco Cheer Magino 3 1, 2, 3 Ok Poi Effetto Cheer Target Graff Faccio Bell Che non mi fa dare Eh no Ti nega l'attivazione dell'effetto Ok Poi Link di Dante Evoco 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 Dove sta Eccolo Evoco Controllore Sì Effetto Dante Ad Cheer Poi Ehm Hai la foolish Ciao Poi Faccio Bea Scarto Cheer Faccio Bea Sopra Dante Sì Ehm Seto In end Effetto Di Di Scarma Yes Ecco Effetto Di Scarma Ad Dollatura Ok Standby Main Polish 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 Ash Ok Rivelo dalla mano Ok Che l'effetto Va bene Special Special Link Ok Colpo Selene Stike Ok 1.5 Special Ok Effetto Di Bea Stacco Dante Mando Farfa Vanno Sì Effetto Dante Aspetta Mi mischio Poi spacca Metà Sì Sì Allora Addo Addo Fami a pensare Addo Cira Ok Allora Livello Visciuda Ok Special Link 1 Spero L'avete Fatto Finito L'avete Fatto Finire Le risorse Visciuda Rimbalzo Bea Ok Effetto Asciuna Sì Una cosa Un attimo E Effetto Adara Effetto Shaman Entri In battle Sì Mille Dichiarazione Fatto Shaman Spacco Gravity Ah Perfetto Sì Replay Sì Mille 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 Sì Cinque Quattro Mille Cento Ok Main 2 Enfys Vai Allora Allora Tour Yes Effetto Tiro 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 Allora Quello Il normale C'ha Mille Evoco Graff Ok Poi Link Il Cherubino Sì Effetto Del Cherubino No Effetto Vabbè Di Graff Evoco Scarma Ok Allora Effetto Del Cherubino Mando uno Al cimitero Mando Farfa Sì Vanno il mostro Normale Ok Quanto c'ha L'altro Difesa Questo 2000 Ok Poi Ok Special Cheer Sì Xiz Dante Ok Stacco Stacco Scarma Mille 3 1 2 3 Ok No Allora Ok Sì Allora 2 5 Attacco Chi L'altro Quanto c'ha Questo 1.6 Questo 2.000 Cosa fa Il 1.6 Il 1.6 Si è un mostro Allora Durante il mio turno Scarto un Wyrm E evoco Un Spacco lui Attacchi qui Ok 900 Prendo Poi Setto 1 Passo Torna questo Si sposa in difesa Dante Si esatto Pesco Standby main Main ok Si si Attivo A pensare Aspetta un attimo Allora Come l'hai rievocato a un mostro? Così Qui da prima Ah ok Si Faccio Vishuda Si E rimbalzo la set Rimbalzo la set Ok 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 Allora penso un attimo X X Sì Dom'amattina Shaman Fetto Shaman Si Fetto Ishuda Kerubino 500 giusto? Si Ok Ok Allora No Non faccio questo Aspetta Faccio questo Battle Si 3000 Sudante Ok Effetto Dante Effetto Ciro Si Effetto Dante Ado Ciro Io ho sbagliato E Ciro Ero col Dante Io ho sbagliato qualcosa Aspetta Perché io questo L'ho attivato Ah ok Però ho attivato questo Si giusto No non è vero Aspetta Allora Io ho questo in mano Ho fatto Quello Lì Ashuna Doveva essere Bannato E questo è il grave Ok Ok così deve essere Ok ci sono E ci sei? Sì Ok E 1000 Bitto su Kerubino Fammi pensare Ok E main 2 Si Enfis Vai Pesco Allora Provo sta mossa Ma Sono un po' in dubbio Allora Evo copiatrice Sopra Dante Si Scartando Ciro Ok Dimmi Chi triggera Solo Ciro Ok Ciro in 2 Questa Pesco 2 Ok Vabbè No aspetta Ash Ok Poi Effetto Cheer Cherubino Ok Ma il normale c'ha 3000 perché è normale perché è l'attacco suo per qualche effetto Eh sì sì è suo Poi Effetto di Cherubino E l'altro quanto c'ha? 1000 Allora Mando al cimitero Graffo e a Vokucir Ok Che si spacca Esatto Effetto Ciro Evoco Dante Si Link Cavaliere del Link Bucerberus Ah sì Scarto Spacco il 3000 Ok È immune Allora Due cose Primo Il nostro che targeti Non deve essere in una main monster zone mi pare Perché non è È qui è nella extra monster zone Non è Ah è quello il 3000 Non è l'altro? No Questo è il 3000 Ah io ho capito che l'altro è il 3000 No Ho detto che questo è 3000 Questo è 1000 Ah ok No vabbè A prescindere tanto non potevo fare niente E comunque sono immuni agli effetti dei mostri No ok No ho perso niente Posso fare Concedi? Sì sì Concedo Concedo Dovevo stare più tranquillo e tenere il TT e sparate il TT il turno prossimo Eh sì E cosa Ma esidiamo Parti di Allora Tour Effetto tour Evoco graph Poi Exis Dante Dante effetto Stacco Macino 3 E allora effetto rino Mando al cimitero Libic Libic mi fa fare la normale La special Scarma Ok Poi No Poi Poi Si è attivato l'effetto di graph anche Che mi evoca dal mazzo Cir Poi Exis Dante Stacco Scarm Macino 3 1 2 3 Effetto di Blackjack Al Ma devi Favere Ok E Favamo così Poi Su questo Dante Scarto Farfa Evoco Beatrice Su questo Faccio link Evoco Controllore Effetto di Cir Evoco Dante Effetto di Dante Addo Ciro Poi Seto Una In End Effetto di Scarma Addo Dal mazzo Latura Ok Vado Vai Stand by Me Io Si Io Ah Quello Ok Nivelo Sì Ah ok Eh vabbè Evoki Effetto Beatrice Sì Stacco Dante Mando Farfa Sì Farfa Banni Sì Vado Sì Nivelo Ok Link Ok Ti vuole lanciare Ok Ok Ad In battle Sì Picchio Controllore Ok Si rimbalzano Tutte e due Eh Attivi Effetto Sì Ok Si rimbalza Solo lui Perché lui In effetti I mostri Allora Main Due Amface Si Torna a lui E vai Tu i mostri Puoi bandarli anche Nel turno mio No Ok Questo no Questo è trigger Aspetta Quale Questo se Nel grave Trigger Ah ok Quindi se te fai qualcosa Lui si attiva Se banna Quanto c'hai Fesa Questo 2000 Questo 1000 D'attacco Tour Ok Evo Corino Ok Risoluzione Perfaction Pesco 2 Sì Ok Poi Allora Xis Ok Dante Yes Stacco Rino Machino Machino 3 Ok Si attiva l'effetto Di Rino Di Graff E di Ciro Ok Allora Rino Anderci in intero Farfa Sì Scarmo Vuol dire Poi Farfa Che si spacca Effetto Spacco il mostro in difesa Cioè banno il mostro in difesa Sì E poi Ehm Poi vabbè Graff non lo attivo Ehm Facciamo 2,5 E Vediamo se posso fare Il mostro in attacco Quanto c'ha? 1000 1000 Ok Posto in attacco Dante Beatrice Attacco con 2005 Il mostro normale Sì Prendono le 5 Prendono tutto Quindi Prendo 5000 Certo In hand Si spostano in difesa Prima Non mi ricordo Ehm La fine della battle Fine della battle Ok Allora Vanno in difesa Ehm In hand Attivo l'effetto di farfa Volevi dire Scarmo Attivo l'effetto di scarmo Ehm Ehm E adoratura Vado Vai Sì Standby main Sì E ti torna il mostro Tributo Be Cosa? Ti torna il mostro Ah sì Ti torna il mostro Tributo Beh E dante Lava golem Ehm Sto pensando un secondo E tanto Non puoi Cioè No 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 In tribal Sì sì Nel senso Quale dante Eccolo col materiale Ok Attivo l'effetto di dante Sarciò dal cimitero Mh Addo farfa Ok Lava golem con 3.000 Dove lo posizioni? Difesa lì Difesa quanto c'ha? 2005 Ok Link Sì Devone sofferente Ehm Ghostbend Ok Vai Ok Questa Sergio Ok Sì sì Di shooter In balzo Lava golem Ok Ti torna in mano Special Eh ok Aspetta Lui TT Sì Fetto di dante Sì Si è accedo al cimitero E rimetto un dante Nell'extra Sì ok Rivalodara Sì Link Fetto Asciuna Evo cosa nezza Sì Link 2 Sì Che carta è? È shaman Scarto una carta E reborn un tenni Ah ok Quanto c'ha? Reborn un wyrm Volevo dire C'ha 1.6 Ok Sì Sì Reborn un mare mare Effetto mare mare Eh Volevo dire 4 Ok Penso un attimo Allora Che cosa voglio fare Effetto Dara Prendo Shun Questo è dopo Intraspecial Sì Conviene Intraspecial Sì In battle Vai Quanto c'hanno? Allora 3000 3000 E lui dice Che finché controllo Un giallo Non puoi targetare I mostri con effetto Per attacchi O effetti E Una volta per turno Posso evocare un token Con le statistiche Di un mostro Che controlli tu E lo targeto Ok Guidatura Effetto Sì Rino Perfection Ok Pesco Va bene No aspetta Non ho finito il turno No Pesco Di questa Ok sì sì Ok Serto Vai Effetto suo In end Targetto Rino Sì Pesco Standby Sì Spaccola bello Sì Resettata Sì Attivo Trucco trappola Ok Banno CT Sì Eccetto Ok Entriamo in main Sì Vissuda Rimbalzo la 7 Effetto Sahas Rara Entri in battle Sì 3.000 su turn E' chiusa Ti manca 2.000 Sì 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 Niente GG Non riesco A fermare Il mazzo tuo Che c'è Che me Beccherò All'extravaganza Allora Ho visto Cateso C'è una grande Popolarità Allora in realtà Dragonlink Si è un po' Sbassato Eh no Magari poteva essere Come il mazzo Visto come il mazzo Più portato Adesso non dico Che sarà il più portato Però sicuramente Non ce ne saranno Uno o due Tanto È uno dei mazzi più forti Certo Più che altro C'è una grande Varianza di rogue Ho visto Perché tipo Tutte le top Che vedo Sono tipo Le top Sono tipo Otto mazzi diversi E top a roba Top a roba a caso Ma se tu consideri Adesso Ultimamente Cioè nel meta C'è Ci sono Vabbè I T1 75.000 T1 e mezzo Qualche T2 Perché vabbè È simpatico E cioè Quindi mi posso aspettare Qualsiasi cosa E ci sono Molti I mazzi Che Ci sono molti I mazzi Che fanno uso Di Combo monocarta Cioè tipo C'è Ci sono gli invoked Invoked Shadow Indogmatica Frank Zoh Eh sì Zoh se ne vede Qualche Eldritch Però C'è Frank Frank Itz È salito tantissimo Di popolarità La mia grande La mia grande sorpresa No Ci hai visto lungo Eh sì Si può dire sì Bel mazzo Frank Itz Poi Forti contro i combo Perché Riesce Riesce Togliergli Sempre la board E Va sopra Di risorse Insomma È un bel mazzo Sì Io penso che Giocherei quello Se Dovessi fare Un bel torneo Tanto L'evento Adesso è il 15 Il 16 Per chiunque Volesse partecipare Trovate tutte le informazioni Sulla pagina Facebook E sul sito Di Elenco un po' Tutti i cosi Ho visto che c'è Il Winamat Sì C'è il Winamat Il torneo di Duel Links Il Win event La Win a giant card Mi sembra Cioè Per chiunque Volesse partecipare Cioè Cioè Potete stare Tutto sabato e domenica In chiusi in casa In casa A giocare a carte Cioè Che bello Chi non potrebbe fare Se non avete vita sociale Tipo il sottoscritto Che domenica rimarrà chiuso in casa Cioè Solo per voi ragazzi Solo per voi No E per la Promo bella Che viene data All'evento Vorrei precisare Per chiunque partecipa Fino a fine scorsa Il mostro Non ricordo che il mostro sia Però Cioè È simpatico alla fine È una roba Che ci sta Che poi ci stanno pure i Dots Per i partecipanti Quindi Non è niente male Eh sì Come Sì sì No Vabbè Io penso che Se la roba Cioè Se mi diverte figa La prossima volta Si rifà Perché comunque Sì ho visto qualcosa Ma non ho effettivamente Menni partecipato Quindi non so cosa aspettarmi Vabbè Poi ciò via adesso Tutta la settimana Testing intensivo Finché non moro Ti darò una mano Sì No No eh Io Davo Una motivazione in più Cioè Cambiate aria Cambiate Non fate sempre le stesse cose Ragazzi Quindi Niente Vi ricordo che qua sotto in descrizione Trovate tutti i miei social Se volete seguirmi Quindi Ragazzi State me easy E noi ci rivediamo Settimana prossima Con un nuovo video Forse Dico forse Una Deck Profile DBA Anche se Forse Con la bella lista Fatta dal sottoscritto Ovviamente Ci vediamo ragazzi Ciao 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 ciao